Mi chiamo Assunta e sono di Forlì. Una voce mi ha chiamato e mi ha detto che mia figlia stava per morire. E questa è la mia storia. A cominciamo. Mi sono sposata all'età di circa 20 anni. Abbiamo tentato di avere una gravidanza ed è arrivata subito. Ero felicissima al settimo cielo. Solo che però la bambina incominciava ad avere dei problemi e così al settimo mese purtroppo con grandi dolori. Alla fine lei è morta. Non vi posso dire il vuoto, la sensazione di sconforto che ho provato a quel tempo. Il mio primo figlio, la mia prima figlia, una femminuccia. Fatto sta che faccio delle indagini, faccio delle analisi e scopro che ero portatrice di cromosoma. Quindi avevo il 50% di possibilità che i miei figli potessero nascere malati. Quindi decido di adottare un bambino. Ma purtroppo economicamente non me lo potevo permettere. Ci volevano tanti soldi e non riuscivo in nessun modo a realizzare quel sogno. Così vado avanti. Ma all'improvviso nel 2011 con grande sorpresa aspetto un bambino. Ovviamente c'era tantissima paura. La gravidanza va avanti e mi dicono che è una femminuccia. La mia gente si va tutto bene, partorisco. Ma da subito ho capito che c'era qualcosa che non andava. La bambina non piangeva. E così immediatamente ho capito di essere una mamma di una bambina speciale. Mia figlia non parlava, non camminava, non faceva niente. Noi ci sentivamo con gli occhi, parlavamo con gli occhi dell'amore. Io la capivo, la comprendivo. Un rapporto tra madre e figlia che nessuno può capire se non le mamme che sono nella mia stessa situazione. Ho avuto la fortuna con grandi sacrifici di viverla per otto anni. Mi ricordo una sera stavo dormendo e all'improvviso sentivo una voce che mi chiamava. Così mi alzo velocemente, vado verso di lei e vedi che stavo avendo una crisi respiratoria. Così mi metto là, mi faccio la respirazione bocca a bocca e massaggio cardiaco, ma dopo poco muore tra le mie braccia. Vedere una figlia morire penso che sia una delle cose più terribili che può mai subire una persona. Vedere un figlio che muore è una cosa che non si può spiegare. Pensavo che la mia vita fosse finita. Ero distrutta. Per chi come me ha sempre cercato una gravidanza e ha visto due figli morire, non si può spiegare tutto quello che avevo dentro. Fatto sta che dopo un po' rimango incinta nuovamente. E che ve lo devo fare? La paura, l'ansia, i pensieri. Mi dicono che la bambina è sana. Mi dicono che andrà tutto bene. Ma io ho paura. Vivo nove mesi con l'angoscia, con il terrore, con la paura. E quando nasce mia figlia, un'altra femminuccia, sana, piango così tanto di felicità che quasi non riesco a tenere più la gioia. Era una sensazione che non si può spiegare. Per molte mamme è normale partorire avere un figlio sano tra le braccia. Ma per me no. Per me è stato un miracolo, un dono. Sono una persona molto credente. E non c'è giorno che io non ringrazio Dio per questo miracolo. Una notte, sempre mentre dormivo, la stessa voce mi disse, vedi, dopo l'aurora c'è sempre l'alba. Mia figlia si chiamava Aurora, la mia bambina speciale che non c'è più, il mio angelo che sarà per sempre nel mio cuore. I miei angeli li porto sempre con me. Non li dimenticherò mai. Sono sempre nel mio cuore. E sicuramente, adesso che mia figlia crescerà, mi parlerò di loro, delle sue sorelle che non ci sono più, di quelle bimbe che fanno parte comunque della nostra famiglia. Ho lottato tanto, ho sofferto molto, ho attraversato periodi molto bui nella mia vita. Ma alla fine Dio ha deciso di regalarmi il miracolo più grande che ci sia. Mia figlia, buona vita.